Benvenuti su Meteomed.it, il vostro alleato per navigare in sicurezza e confortevolezza nel Mediterraneo. Da anni ci occupiamo di migliorare i nostri modelli e l'efficacia sia per diportisti che per operatori professionali. Il nostro sito offre due sezioni dedicate, una per i diportisti con servizi su misura per chi ama al mare per passione e una per gli operatori professionali con offerte pensate per chi lavora ogni giorno a stretto contatto con il mare. Quest'anno siamo entusiasti di presentarvi il nuovo Meteomed 2024, ricco di importanti novità e miglioramenti. Abbiamo sviluppato un nuovo modello meteomarino ad altissima risoluzione, garantendo previsioni ancora più accurate e affidabili. La nostra cartografia è stata migliorata e abbiamo introdotto funzionalità innovative come le previsioni delle correnti marine superficiali. Ora è possibile scaricare file GRIB direttamente dal nostro sito e utilizzarli nei principali software di navigazione per una pianificazione ancora più precisa del vostro viaggio. Un'altra grande novità è la consulenza personalizzata di un meteorologo specializzato in navigazione, con esperienza olimpica e due medaglie vinte. Disponiamo della sala operativa più grande d'Italia, con un team di meteorologi professionisti pronti a fornirvi consulenze di ogni tipo. Inoltre Meteomed è in continua evoluzione e continuamente sviluppiamo servizi dedicati alla marineria professionale e al di porto, cercando di seguire le esigenze specifiche proprio di chi naviga e quindi le esigenze di chi va per mare per una navigazione confortevole e sicura. Vi invitiamo a consultare il nostro sito e potete contattarci telefonicamente o tramite mail. A presto!